Presidente Maurizio Vecchies, un'altra tradizione, l'ultima intervista prima dell'inizio del campionato. In generale, come siamo con l'inizio di questa stagione? Come? Abbiamo fatto sicuramente, come si è visto da questa sera, una bella squadra, una bella struttura e non hanno sfigurato neanche le riserve, chiamiamole riserve, che sono comunque le seconde linee, perché è stato un bellissimo confronto, comunque con una squadra di prima divisione slovena, per cui insomma di tutto rispetto. Per cui sono contento di questo inizio e poi vedremo la prossima settimana l'inizio del campionato come andrà. Spero che ci sia comunque lo stesso pubblico e lo stesso sostegno alla squadra. Ecco, la presentazione è stata emozionante, rivedere una stagione perfetta direi come quella dell'anno scorso anche, speriamo che sia di buono auspicio e invitiamo i nostri tifosi a essere numerosi come oggi. Sì, certamente, speriamo che siano sempre numerosi come oggi e di sostenere la squadra sia nei momenti belli ma anche nei momenti difficili, che sicuramente durante un percorso della stagione potranno accadere. Vorrei che questa squadra fosse ad esempio sia nel campo che fuori del campo per tutti i giovani, per tutte le squadre giovanili che sono state presentate questa sera. E' stato uno spettacolo vederle 170 ragazzi che sicuramente con il proseguo e con gli investimenti che abbiamo fatto nel settore giovanile ci daranno delle soddisfazioni nel prossimo futuro. Ringraziamo il Presidente e diamo appuntamento ai nostri tifosi per sabato. Sicuramente ci vediamo tutti sabato, grazie.